Anche quest'anno il Comune di Polla mette in campo iniziative per promuovere la lettura, confermando di essere un importante centro culturale nel territorio valdianese e di ricoprire al meglio il ruolo di città del libro, titolo acquisito nel 2009 e riconfermato per il biennio 2020-2021. La Giunta Comunale ha infatti deliberato l'adesione alle iniziative Libriamoci e io leggo perché, la grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Nell'ambito di Libriamoci 2020 è stato individuato il tema positivi alla lettura e l'amministrazione comunale di Polla ha deciso di promuovere e incentivare fino al prossimo 6 gennaio la lettura per i bambini e ragazzi delle scuole locali. In particolare saranno proposti testi e favole in famiglia dedicate ai bambini da 0 a 6 anni con l'iniziativa Contagiamoci di favole, dove ambasciatori della lettura saranno gli stessi familiari dei piccoli, cioè mamma, papà, fratelli e sorelle maggiori e i nonni anche a distanza. Per i ragazzi di età compresa dai 7 ai 14 anni il Comune intende promuovere e incentivare in famiglia e tra gli amici anche a distanza la lettura di testi e di quotidiani mediante l'iniziativa Contagiamoci di letture, con oggetto gli stessi filoni tematici proposti quest'anno per Libriamoci, vale a dire storie, idee, gentilezza. Per i ragazzi fino a 14 anni sono previsti anche scritti e letture incentrate sulla pandemia, sui suoi effetti e anche sulle opportunità di crescita e di solidarietà che ne scaturiscono. Le due iniziative coinvolgono gli istituti scolastici di Polla e i sottoscrittori del patto locale per la lettura città di Polla.